Pronto? Ciao! Mi stai dicendo che vuoi una mano per organizzare dei laboratori per bambini in biblioteca? In biblioteca? Ma sei sicura? Dei bambini in biblioteca? Sì, lo so, l'hanno ristrutturata, però... C'è una riunione nel pomeriggio? Ok, vedo se passo. In biblioteca? Boh! Cos'è successo qui? Ora è la nostra biblioteca.